Sabato Nero sulle strade della nostra provincia dove si sono verificati due gravissimi incidenti. Un settantenne ha perso la vita a Colico, un bimbo di 10 anni di Barzanò, ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Bergamo. Il primo episodio è quello avvenuto questa mattina intorno alle 9 nel centro dell'Alto Lago. A perdere la vita Francesco Michele Comi, classe 1949, da tempo residente in paese con la famiglia. Secondo quanto ricostruito, l'uomo alla guida della sua Fiat Punto stava percorrendo via al confine quando, per cause al baglio della polizia locale del comune dell'Alto Lago, si è scontrato contro un muletto. L'impatto è stato violentissimo per il settantaduenne che lascia nel dolore la moglie e due figli. Non c'è stato nulla da fare. Il secondo episodio invece è quello avvenuto intorno alle 12 nella frazione Villa Nova di Barzanò. Un bambino di 10 anni che procedeva a bordo della sua bicicletta è stato urtato da una vettura lungo via Cristoforo Colombo. Le condizioni del bambino da subito si sono dimostrate molto gravi. Un elicottero si è levato in volo dall'ospedale di Brescia e ha trasportato il bambino in codice rosso a Bergamo. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Cremella. Loro spetta il compito di ricostruire con esattezza quanto accaduto e le eventuali responsabilità.